Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo un'altra anticipazione non ancora ufficiale per la prossima stagione, la 2023-2024, la terza maglia dell'Arsenal in versione player. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In descrizione, qui in basso, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere questa e altre bellissime maglie che vi attendono. Prima di lasciarvi la parte finale, spero possiate regalarci un grande like, ma soprattutto iscrivervi al canale. Vi ricordo che è l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.